pronto buonasera io mi chiamo gianluca la chiamo per un'offerta telefonica ciao la sto per offrire un'offerta di molto generosa che nessuno nel mio campo ma quale ascolta una cosa io l'altro io non conosco nessuno jessica e cosa fa signore io sto cercando un ragazzo più grosso di me mi dà uno schiaffo guarda hai vinto sei stato bravo complimenti jessica arriva e mi fa e cosa le dice signore colpiscelo ma perché non ha difesa sua moglie no aspetta sai cosa ti ho detto allora signore io sono qua per sto colpiscelo provando siamo una copia questo è vero ma io sto cercando di vendermi una cosa molto interessante signore sto cercando di farlo non faccio il psicologo allora passo subito il mio nome nonno c'è consente grazie mille grazie mille quale compagnia telefonica la chiamo per una compagnia che si chiama u prime vision pronto pronto allora la chiamo per un'offerta ma ascolti sì mi dica perché ha chiamato e da prima che cerco di spiegarlo io chiamo per un'offerta telefonica nuova in italia ma io cosa ci faccio qua non lo so allora l'offerta si tratta di portarmi via portarmi via da qui signore signore che succede è in pericolo ai miei tempi venivo fino a bussare a per fare questo lavoro adesso chiamiamo per una volta ogni offerta c'era un cane vicino all'entrata ho bussato ho visto il cane mentre scappavo mi ha morsa la chiappa un cane l'ha morsa la chiappa signore e queste cose non capitano tutti i giorni adesso non penso proprio che capitano tutti i giorni signore ascolti ascolta lei c'ha una moglie sì c'ho una moglie sono sposato ho tre figlie e tutto bene perché avere la moglie adesso è molto importante eh sì sì sono d'accordo se lo prendi nel cuore eh ah no con chi ti devi vendicare eh su nessuno con la moglie eh la moglie tu sei molto esperto vedo eh eh guardi io sono qua per venderle un'offerta se è interessato mi lo dica se no me ne vado no no lui non vuole sapere niente della tua vita grazie grazie vuole solo venderti la roba ma quale roba? la roba? aspetta ai miei tempi la roba si andava per strada a prendere io non vendo nessuna roba adesso si fanno il telefono che signore lei che cosa c'è di bello? io non vendo nessuna roba che cosa c'è di bello? sto lavorando il mio lavoro è il consiglio un consiglio eh quale sarebbe il consiglio? se vuoi drogarti eh io non mi il consiglio non chiamare più questa casa sì altrimenti guarda signora arrivederci e buona giornata oh ha messo giù così impara a disturbare le persone in piena giorno